Eccoci qui, sono le 9 e 3 minuti e nel frattempo noi stiamo microfonando anche i nostri ospiti, grazie ai nostri tecnici, grazie Saverio, e abbiamo qui in studio nel frattempo ci hanno raggiunto Rosa Palomba, assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Monte San D'Angelo, Giuseppe Totolo dell'associazione Museca e anche organizzatore delle Fanoie 2023. Partiamo proprio in realtà dal tema Fanoie, Giuseppe, che cosa sono le Fanoie e come nasce questa tradizione? Le Fanoie sono un rito millenario che affondano le radici in un'epoca pre-cristiana, quando i Riti del Fuoco avevano un significato propiziatorio di purificazione, era un augurio per la prosperità, per la fertilità, però poi dal Medioevo questi Riti del Fuoco hanno assunto anche un significato religioso perché coincidono con le festività di San Giuseppe, coincide anche con una data astronomica molto importante che è l'Equinozio di Primavera e stiamo parlando del culto del sole, sempre in epoca pre-cristiana, quando questo fuoco purificatore che scaccia via, il simbolo del fuoco che scaccia via all'inverno, la stagione è magra ed è il benvenuto alla Primavera, all'imminente stagione dell'abbondanza. Assessore Palomba, abbiamo visto prima in grafica anche un po' la locandina di questo evento, di quest'anno delle Fanoie 2023. Come ogni anno c'è un grosso coinvolgimento di associazioni, di partner, quali sono gli eventi da non perdere? Nel frattempo stiamo vedendo anche alcune immagini di passate edizioni delle Fanoie che ci stanno mandando la regia. Allora, cosa non bisogna perdere quest'anno? Allora, sicuramente buongiorno a tutti. Quest'anno le Fanoie, come da tradizione, sono raccontate dalle associazioni, dalle istituzioni scolastiche. In questo momento si stanno radunando intorno alle quattro piazze dedicate appunto a questo importante evento di racconto, di passaggio dalla stagione invernale alla primavera. Si stanno raccogliendo i ragazzi delle scuole che insieme alle associazioni costruiranno e allestiranno appunto queste cataste, metteranno proprio in ordine queste cataste di legno, di legna. L'evento è proprio stato pensato in questo modo perché vogliamo tramandare proprio alle nuove generazioni quelle che sono le nostre tradizioni, raccontate poi tra l'altro nel folklore garganico da Giovanni Tancredi. Ci sarà il percorso quindi dei rituali del fuoco, tra l'altro ecco le Fanoie di Monte Sant'Angelo rientrano nei rituali del fuoco della regione Puglia e con un percorso gastronomico e musica dal vivo itinerante con anche degli sputafuoco che a tema appunto gireranno e raccoglieranno, come dire, gli entusiasmi della gente. Torno su Giuseppe, parlavamo appunto di queste tradizioni, abbiamo visto nelle foto anche il coinvolgimento di gruppi folcolistici, gruppi locali. Quest'anno sono in programma anche gruppi da fuori di Monte Sant'Angelo, c'è la presenza anche di questi gruppi. Vi chiedevo anche qual è la percezione che hai della tradizione rispetto ai gruppi folcolistici. C'è ancora un sentire questa tradizione anche nelle nuove generazioni? Sì, come diceva Rosa, inizieremo la manifestazione con il significato più profondo della tradizione, quello di consegnare alle nuove generazioni la tradizione. Ci saranno due gruppi ospiti dalla Campania, Tarantella di Montemarano e un gruppo suonatori Vesuviani da Pomigliano d'Arco e da Napoli. Poi ci sarà un gruppo folto di ragazzi e ragazze di Monte Sant'Angelo, qui la media d'età sono 16-20 anni. Questo è un progetto, si chiama Tobio, guidato da Michele Totra, il pastore social, o School Air, che guiderà questi ragazzi. Quindi in un'epoca in cui la musica giovanile è priva di significati, vedere un gruppo folto di giovani che porta avanti le tradizioni è un motivo di orgoglio. Quindi abbiamo voluto coinvolgere loro perché si vestiranno anche con abiti di un tempo. Quindi, come dire, la vivono questa tradizione, c'è questa riscoperta anche da parte dei giovani. Ma questo grazie anche alla nostra manifestazione che noi facciamo l'estate, il raduno dei suonatori di Tarantella. Quindi loro si sentono coinvolti in questa manifestazione e numerosissimi hanno voluto partecipare. Questa sera animeranno i falò insieme agli altri gruppi, come dicevo, Tarantella di Montemarano, suonatori Vesuviani, ci saranno i cantori di San Giovanni Rotondo, il gruppo di giocolieri Sputafuoco, e diciamo ci sarà da divertirsi. Monte Sant'Angelo questa sera i falò assumerà una nuova, come dire, un ulteriore fascino alla città. Assessore Palomba, dai giovani passiamo anche in realtà agli adulti di oggi. Avevi citato i racconti di Giovanni Tancredi in Folcore del Garganico. Qual è il ricordo che tu hai rispetto a queste tradizioni alle fanoie? Pensi sia cambiato qualcosa nel corso degli anni e se è cambiato qualcosa e in che modo? Beh, io ricordo che, voglio dire, rispetto alle fanoie della, insomma, quando da ragazza, come dire, le fanoie animavano i quartieri e quindi i ragazzi durante i giorni che precedevano comunque questa giornata, il 18 marzo, erano tutti alla raccolta della legna. Quindi io forse da femminuccia venivo coinvolta, diciamo, soltanto negli ultimi giorni. Però ecco, questa, ecco, ricordo appunto questo entusiasmo, questa voglia di dare il proprio contributo, di essere partecipe attivamente, no, nell'allestimento delle fanoie. Quindi sicuramente, voglio dire, oggi la viviamo diversamente, nel senso che non, ecco, purtroppo dobbiamo fare i conti con lo spopolamento, con siamo un'area interna, diciamo abbiamo tante difficoltà, però è rimasta questa, come dire, la manifestazione, questo evento è ancora legato alla nostra tradizione. Quindi c'è il coinvolgimento di tutti, le scuole, come ricordavo prima, partecipano in abiti tradizionali, quindi il cafone, la pacchianella, che tra l'altro quest'anno festeggia il centenario, quindi è l'associazione forse più longeva d'Italia. E quindi, ecco, il sentirsi parte integrante, parte attiva nella realizzazione delle fanoie, quindi sarà un bel momento per ritrovarci, soprattutto dopo la pandemia, ecco, quindi oggi abbiamo un altro spirito e sicuramente, voglio dire, un'altra emozione, e come ritornare a nascere. Giuseppe, torno su di te, diceva anche l'assessore, un po' un ritorno dopo la pandemia, in realtà l'anno scorso c'è già stato un'edizione, probabilmente si è iniziato a rodare, ecco, di nuovo dopo il lockdown che abbiamo vissuto, quest'anno, diciamo, si ritorna a pieno regime, diciamo così. Negli ultimi anni è un evento che ha iniziato a coinvolgere sempre di più persone anche da fuori, Monte Sant'Angelo, anche rispetto ai turisti, rispetto a una tradizione che sì, caratteristica della città, ma che continua sempre più ad attrarre persone anche da fuori. Sì, è una manifestazione che comunque attrae, perché comunque il fuoco segna questo passaggio, quindi la gente si inizia a muovere anche, perché il passaggio dall'inverno alla primavera, c'è questo risveglio, quindi la gente inizia anche a muoversi, quindi sicuramente ci aspettiamo tantissima gente. Poi abbiamo dimenticato di dire che c'è il concorso, abbiamo coinvolto i ragazzi anche con un concorso di segni alla tradizione, che dalle 16 alle 19 saranno esposti questi lavori nella biblioteca comunale Ciro Angelillis e chiunque potrà votarli questi lavori. I primi tre vincitori riceveranno un buono da spendere in materiale didattico e scolastico. Quindi nuovamente abbiamo coinvolto i BIM delle scuole primarie. Perfetto, noi ci fermiamo nel frattempo solo qualche secondo per uno spot pubblicitario, per un break pubblicitario e poi torniamo qui sempre su Padre Pio TV. Eccoci qui, le 9 e 15 minuti, ben ritrovati in questa puntata di Just Today qui su Padre Pio TV. Grazie ancora a Rosa Palomba e Giuseppe Totalo per essere qui con noi per parlare di queste tradizioni, delle tradizioni del fuoco, delle fanoie, dei falò in occasione della festa di San Giuseppe. Nel frattempo noi vogliamo ricordare una data. Domani, oggi è il compleanno, sono 88 anni di Don Tonino Bello. Ieri c'è stata la consigna dei premi archi di pace 2023, una cerimonia al quale oltre ad aver preso parte il nostro direttore Stefano Campanella ha preso parte anche alla memoria appunto di Don Tonino Bello, Monsignor Domenico Cornacchia, che è il vescovo di Morfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Allora, ripercorriamo brevemente questa giornata dedicata alla consigna dei premi archi di pace 2023 in questo servizio a cura del nostro Leonardo Fania. Monsignor Cornacchia, successore del messaggio profetico di Don Tonino Bello, essere artigiani di pace. Bravo. Eccellenza, lei è il successore di Don Tonino sulla cattedra di Molfetta. Quali sensazioni, ecco, nel ricevere a suo nome e per suo conto potremmo dire questo premio importantissimo che parla di pace, che parla di Don Tonino? Certo, sono molto commosso, sono molto grato a tutti gli organizzatori che qui a San Giovanni Rotondo, terra emblematica per la pace, per la preghiera, ecco, ricevere a nome di questo profeta, così è stato definito proprio domenica scorsa da sua santità Papa Francesco che è stato Don Tonino Bello. Beh, io dico sempre che man mano che il tempo passa alcuni ricordi sbiadiscono, scompaiono dalla nostra memoria. Invece, devo attestare che man mano che il tempo passa i ricordi di questo grande vescovo si incarnano sempre di più nel cuore e nella storia di coloro che lo hanno conosciuto, ma anche direi anche di quanti non hanno avuto la fortuna di conoscere questo vescovo che è morto appena a 58 anni, 30 anni fa, pensate. Per cui non posso che dire grazie al Signore per questa eccezionale opportunità che mi dà di mettere i miei piedi nelle orme lasciate da questo uomo e penso che sia una bella esortazione per tutti imparare da questi testimoni come si può essere maestri. Perché diceva San Paolo VI questo è che il mondo oggi ascolta più i testimoni dei maestri e ascolterà i maestri se questi sono testimoni. Trent'anni sono passati dalla morte di Don Tonino ma è un profeta che continua a parlare attraverso le testimonianze, attraverso le voci, attraverso la sua voce. Cosa ha da dire oggi allora Don Tonino visto il periodo storico difficile che stiamo vivendo? Sicuramente come ha detto il nostro Signore nessuno è profeta in patria per cui la voce profetica di questi uomini nonostante le minacce di guerra nonostante i rumori bellicciosi che ci possono essere ecco nonostante mille attentati ecco questa voce la voce della pace e la sua difesa deve sicuramente prevalere io sono certo che alla fine alla fine prevarrà solo la pace tra i popoli e come dice la scrittura e come diceva ripetutamente ecco Don Tonino ecco se non c'è la giustizia non c'è la pace è quello che noi vogliamo ancora invocare da tutti i capi di Stato da tutti i governanti che ci sia più giustizia che ci sia più equità tra Nord e Sud tra est e ovest del mondo l'ultima domanda Don Mimmo riguarda il processo di beatificazione di Don Tonino ecco a che punto siamo voi sapete che il 25 novembre del 21 è che Santo Padre Papa Francesco ha proclamato venerabile ecco Don Tonino e naturalmente ci sono delle cause che durano anche secoli non erano trascorse ancora 30 anni dalla sua morte e Don Tonino è stato già proclamato venerabile io penso che che siamo nella giusta direzione naturalmente nessuno si può inventare nessuno può proclamare ecco Santo alcuno ma sono certo che Don Tonino si sta da solo aprendo la strada verso questa dichiarazione universale della sua santità io consegna l'arcivesco Monsignor Mosconi grazie il premio che va alla memoria di Don Tonino perché questo incontro di studio è dedicato alla memoria pensare oggi a Don Tonino attribuire un premio significa ricordare quella che è stata la sua testimonianza e soprattutto quella che è stata la sua profezia Don Tonino profeta dunque quale lezione allora dobbiamo imparare dalla sua vita che è santa una vita che anche Papa Francesco ha definito santa Don Tonino va a Sarajevo perché capisce che nel mondo stavano ritornando stavano ritornando fantasmi con i quali pensavamo di non dover più niente a che fare il fantasma del nazionalismo il fantasma delle pulizie etniche e capisce che consegnare all'umanità l'umanità al conflitto alla guerra significa probabilmente consegnare l'umanità per sempre alla morte perché oggi dinanzi ad un evento bellico non c'è chi può vincere e chi può perdere saremo tutti sconfitti vediamo in questi giorni che nessuno riesce a vincere una guerra è una guerra che iniziata si diceva che non doveva durare moltissimo doveva durare solo pochi giorni non si riesce più a terminare a vedere il termine di questo di questo conflitto e allora Don Tonino affida invece l'umanità alla alla capacità di vedere orizzonti nuovi che sono appunto che possono soltanto essere orizzonti di pace ai giovani diceva soprattutto che la fede e la cultura sono le due cose da doversi ogni giorno guadagnare e lui attraverso la convivialità delle differenze trovava la chiave per evitare gli scontri fra civiltà gli scontri fra religioni l'armonia nel mondo per un futuro di pace e grazie a Leonardo Fania per questo servizio in occasione della consegna dei premi Archie di Pace 2023 alla memoria di Don Tonino Bello grazie alla preziosa testimonianza di Monsignor Domenico Cornacchia Vescovo di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi torniamo sul nostro tema abbiamo nel frattempo in collegamento Pietro Salcuni presidente onorario del gruppo folcloristico Pizze che Muzz di Vieste grazie Pietro per essere collegato con noi salve buiollo allora torniamo sulla tradizione abbiamo qui con noi Rosa Palomba assessore del Comune di Monte Sant'Angelo vice sindaco e Giuseppe Totolo della Stazione Musica organizzatore delle fanoie di Monte Sant'Angelo 2023 professore c'è una tradizione che è quella in realtà che unisce in qualche modo i pellegrini di Monte Sant'Angelo con quelli di Vieste e in qualche modo il rito del fuoco e quelle che sono le fanoie di Vieste hanno qualcosa a che fare con questa tradizione è giusto certamente saluto la Palumbo e Totaro che conosco in merito alla tradizione a cui faceva riferimento posso dirle che un legame perché io sto parlando da Vieste un legame molto intenso tra Vieste e Monte Sant'Angelo c'è sempre stato parlando con alcune persone anziane mi dicevano che molto tempo fa purtroppo poi con l'omologazione con il turismo tutto è andato scomparendo c'erano le compagnie che da Vieste andavano al santuario di San Michele quando poi rientravano su Vieste il modo per evidenziare l'atto effettuato il gesto svolto venivano accesi dei falò falò che illuminavano la strada del ritorno di questi pellegrini per cui questo il fuoco già è presente perché c'è stato questo collegamento con monte sant'angelo e in più come in ogni posto non dico del gargano ma dappertutto l'accensione del falò o si effettuava San Giuseppe o Sant'Antonio o verso Pasqua quindi c'è sempre stato questo gesto e noi abbiamo voluto che la memoria delle nostre tradizioni non venisse abbandonato fosse trascurato per non essere sopravvinto dall'omologazione e dalla questo modo di affrontare la vita da parte di tante persone si è ripresa questa manifestazione e la si è portata ad un livello abbastanza alto poi tra l'altro ricordavamo appunto nelle parole di Pietro Salcuni appunto questo gesto delle fanoie di vieste dei pellegrini che da monte tornavano a vieste che poi in realtà poi a contrario sono i pellegrini che da vieste arrivano a monte ogni anno in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo sì esattamente diciamo che noi anche come amministrazione comunale abbiamo puntato molto sui cammini e quindi raccontando quella che era ed è una tradizione millenaria Monte Sant'Angelo sul Gargano accoglie e ha accolto negli anni papi imperatori semplici pellegrini uomini e donne che arrivavano sul monte Gargano da ogni dove da ogni parte del mondo sicuramente noi anche proprio sui cammini no? Monte Sant'Angelo Meta della via Francigena stiamo lavorando molto ecco sui cammini e anche come dire riprendendo rinforzando quelle reti che diciamo negli anni in modo naturale erano già presenti e ci torneremo anche su quello che è il cammino più importante che oggi Monte Sant'Angelo sta portando avanti lo faremo dopo un altro piccolo break pubblicitario nel frattempo ringrazio Pietro Salcuni per essere stato noi grazie professor Salcuni e in bocca al lupo e buona continuazione anche di quelle che sono le vostre fanoie avvieste grazie grazie a tanti ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo qui ancora qui con noi grazie per esserci anche in questo sabato 18 marzo 2023 e torniamo a parlare sempre di Monte Sant'Angelo questa volta lo facciamo partendo da questa piccola clip c'è una città in Puglia dove la storia si dà appuntamento da millenni dove la natura è sacra come un santuario dove la spiritualità riempie il cuore e gli occhi e dove il cibo ha ancora il sapore delle cose vere questa città è Monte Sant'Angelo la città dei due siti UNESCO ha un weekend da te Rosa Palomba la città dei due siti UNESCO un monte in cammino ed è questo lo slogan della candidatura di Monte Sant'Angelo a capitale italiana della cultura in realtà vi abbiamo invitato oggi anche perché all'inizio c'era proprio lunedì la prossima settimana è l'audizione finale al ministro della cultura sono dieci le finaliste italiane oltre a Monte Sant'Angelo a Grigento a Osta e Sisi Asti Bagnoreggio Orvieto Pescina Roccasecca e Spoleto audizione rimandata solo di qualche giorno a lunedì prossimo al 27 di marzo allora in che direzione si sta andando? Sì allora il 27 marzo saremo in audizione al ministero per raccontare e presentare il dossier il dossier che parte da un importanti momenti di condivisione che stiamo vedendo nelle immagini diciamo hanno avuto come momento culminante il 28 agosto e pensare che tante persone tante associazioni tanti stakeholders si sono trovati ritrovati diciamo in agosto nella biblioteca comunale di Monte Sant'Angelo per scrivere tutti insieme una pagina importante della nostra città del nostro territorio compreso c'erano quasi tutti i sindaci del Gargano quindi un monte in cammino il dossier presentato dalla città di Monte Sant'Angelo in realtà è un è un lavoro che racconta non solo di una città ma di un intero territorio il Gargano quindi un monte in cammino significa che vuole essere proprio una ripartenza una ripartenza dopo un momento sicuramente difficile per il nostro territorio e vuole essere anche una forma di riscatto per il nostro territorio quindi il 27 marzo rappresenteremo Monte Sant'Angelo il Gargano e l'intera Puglia quindi sicuramente la cosa ecco bella che abbiamo annunciato già dalla dalla BIT e dalla BITM di Bari BIT di Milano e BITM di Bari è che Monte Sant'Angelo sarà sicuramente capitale della cultura per la Puglia per il 2024 la regione appunto riconosce alla città che ha partecipato a questa come dire a questa iniziativa riconosce appunto per chi si è classificato tra i primi dieci questo importante riconoscimento quindi sicuramente il 2024 sarà un anno importante e il 2025 soprattutto anche insieme alle comunità al comune di San Giovanni Rotondo di San Marco in Lamis saremo impegnati per il giubileo quindi anni importanti che ci attendono e che ci vedono lavorati lavorare uno a fianco all'altro Assessore nel frattempo è anche una corsa con l'hashtag anche io in cammino con Monte sono tanti gli endorsement delle ultime ore sia da parte della politica delle istituzioni dal presidente della regione Puglia dal presidente dell'Anci e tanti altri ma anche da parte di persone del mondo dello spettacolo Michele Placi Lorenzo Arbore ti aspettavi tutto questo successo in qualche modo tutta questa unità per questa candidatura posso dire con un po' di orgoglio sì perché poi il popolo la Puglia il Gargano è un territorio che è rappresentato da gente che ci tiene ecco è legata al proprio territorio quindi tra l'altro abbiamo avuto una condivisione di questa appunto di questa come dire di questo hashtag anche da da fuori quindi dai nostri partner da chi con i quali appunto lavoriamo in rete già da diversi anni Mont Saint Michel la Sacra in Piemonte ma anche Brescia con la quale siamo collegati e legati dai dai Longobardi quindi davvero un importante sostegno sostegno e quindi al di là di quello che sarà l'esito finale comunque con Assisi con Spoleto con Brescia stessa faremo delle cose insieme nei prossimi anni e allora in bocca al lupo per l'audizione al Ministro della Cultura del prossimo 27 marzo viva il lupo e terminiamo Giuseppe allora ricordiamo l'appuntamento l'appuntamento per questa sera a Monte Sant'Angelo il falo di San Giuseppe e chi vorrà potrà attraverso il fuoco scacciare via tutte le energie negative e fare spazio ai veri valori della vita grazie per essere state con noi grazie a Rosa Paolo Umba Vice Sindaco Assessore alla Cultura del Comune di Monte Sant'Angelo grazie a Giuseppe Totalo dell'Associazione Museca e organizzatore delle Fanuio 2023 grazie in bocca al lupo per questa giornata e noi nel frattempo andiamo dritti al cuore con Don Francesco Almenti